Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in auto-carica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore. Ma non impongo nulla? Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento. Ronald Bernard, è un piacere essere qui con te ad Amsterdam. Grazie, sono molto felice che hai fatto questo viaggio, questo duro viaggio. Un viaggio difficile, infatti un viaggio pesante. In effetti sembrava che alcune forze straordinarie stessero cercando di impedirci questo incontro, ma guarda che bella giornata e come possiamo guardarci negli occhi. Sì, è veramente piacevole conoscerci. Sai, illuminati, questa è la parola che innesca chiunque affascinato da questa idea. Sì. E le persone che come te hanno sperimentato in prima persona la realtà di questo alto rango, questo sacerdozio babilonese che opera da dietro le quinte e controlla il destino e gli eventi dell'umanità, è una realtà per te, non è uno scherzo. No, non lo è. Parliamo degli illuminati per un attimo. Credi che gli 8.500 membri degli illuminati abbiano qualche collegamento con l'azione penale a Washington? Non ho la sfera di cristallo, ma di certo, certamente, le 8.500 persone che stanno portando avanti lo spettacolo sono collegate con le persone che fanno parte di un gruppo. Ma non penso che gli 8.500 siano all'interno del gruppo. Penso è il migliore dei modi, perché loro sono sempre disposti a sacrificare. Parliamo del rapporto della BS, della Bank of International Settlements, di Vaticano, di Londra e di Washington, i principati. Sì. Storicamente la gente pensa che riguardi città del Vaticano, Londra e la città di Washington, ma tu hai parlato della BIS, della Banca dei Regolamenti Internazionali, ed è quello di cui dovremmo guardare. Sì. Conosco un sacco di persone in questo mondo, specialmente riguardo a notizie alternative, persone che sono consapevoli, stanno osservando Washington DC alla parte libera di questo Stato. Quando parliamo della città del Vaticano, di Londra e Washington DC, parliamo di Stati liberi. La parte di Washington è l'esercito, la città finanziaria è Londra, e quello spirituale il Vaticano. Il Vaticano. Ma la maggior parte delle persone pensa che loro siano i poteri principali, gli strumenti principali, ma non lo sono. la BIS sta al di sopra di loro, è anche uno Stato libero, ma la finanza è il regolatore, l'investitore, dove introducono anche programmi e attraverso, diciamo, il gioco. Il mondo intero è un gioco. Quindi tutti i meccanismi inflazionistici, i meccanismi di tassi di interesse, sono tutti truccati. È il canale. La BIS è il canale che organizza il multilivello che hanno. Vediamo solo la parte ufficiale, ovviamente come hanno la giunta direttiva, ad esempio. La giunta, la giunta ufficiale, è, voglio dire, la BIS è la casa clave di tutti i banchieri. Nella giunta c'è il presidente di un'ulteriore banca centrale. No, ma questo è tutto all'esterno. Adesso stiamo parlando direttamente verso la direzione di una banca all'ombra del mondo reale, perché il mondo ufficiale non è il mondo reale, il mondo nel quale vivevo era il mondo dove tutto era possibile. Puoi cambiare identità tutti i giorni, puoi falsificare qualsiasi documento che vuoi in questo mondo. Creiamo le nostre proprie regole, ma le regole arrivano sempre diciamo dall'alto. E questo è il meccanismo dell'ABS. L'ABS è la più importante. E chi possiede l'ABS? Possiamo identificare le parti coinvolte? Ufficialmente i padroni dell'ABS sono conosciute ovviamente come sono tutti le parti interessate sono tutte le altre banche centrali, come è una specie di proprietari collettivi. Le garanzie di un paese, le ricchezze di un paese sono veramente assicurate per gli esseri umani, giusto? Sì. Si basa sul tuo certificato di nascita. Quindi l'essere umano è nato e viene messo un vincolo di nascita, un certificato del tesoro con il numero riferito a questa nascita con un valore per questo. Sì. Nelle mie conferenze l'ho spiegato bene alla gente. So di questo certi 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 il mio inglese se n'è andato. Il documento di nascita è più facile per me. In Olanda nel momento che qualcuno nasce il padre e la madre sono molto felici di firmare cedere il contratto giusto? Perché il nostro paese è un'azienda un'impresa privata. Sì. Una volta che hanno quel numero il numero BSN in Olanda si chiama il numero del servizio burger è il numero della schiavitù. Quindi per te come olandese è il numero di servizio per loro per il potere è il numero della schiavitù e riguarda la mentalità e riguarda la tua la tua stupidità che non sei nulla sei una vacca. Nel momento che viene creato il tuo certificato di nascita il tuo valore è di 500.000 euro in Olanda in Olanda così loro calcolano che nella tua intera vita produttiva porti allo Stato porti al sistema finanziario più o meno con le tasse e le tasse indirette e altri modi restituisci i 500.000 euro all'incirca quindi tu diventi valore nel momento in cui nasci. Ho sentito che questi certificati i certificati di nascita sono negoziati nel mercato azionario in America in Olanda non succede questo ma lo fanno in altri paesi quindi non si sa dove finiscono i certificati di nascita voglio dire tutto l'intero sistema finanziario è governato da leggi quindi i principali criminali di questo mondo sono sostenuti da leggi ufficiali se sei se sei un genitore ed è nato tuo figlio nel giro di pochi giorni devi recarti al al registro a registrare al registro fare la tua registrazione altrimenti incontrerai dei problemi perché infrangi la legge infrangi lo statuto non la legge sì certo per molti cittadini è infrangere la legge perché questa è la storia che ci raccontano la storia esattamente la storia che ci raccontano quindi il solo modo per uscire da questo sistema è riunirsi in una specie di cooperativa e ricevere sì sì rimuovere l'attenzione da questo gioco e questa storia perché è solo un gioco solo una storia giusto molto bene voglio anche chiederti se sei mai stato ricattato da questo circolo degli illuminati o sei stato sedotto dentro questo attraverso ricchezze e potere o altro sì sedotto sì in molti modi voglio dire è molto semplice durante il periodo in cui ho lavorato con loro mi hanno ascoltato tutto hanno cercato tutto quanto per i miei punti deboli un controllo del tuo passato di tutto di tutto quanto di tutto quello che potevano avere ok ma non mi hanno mai ricattato sapevo che avevano alcuni incartamenti voglio dire che ho anche lavorato con i servizi segreti voglio dire questo è ovvio in realtà se si lavora in un mondo all'ombra di questa di questa finanza finanziaria è io questa è la ragione per cui sono uscito lo scorso anno con la mia testimonianza riguardo la mia vita in cinque parti con dvm tv per prevenire questi dossier che ancora esistono da qualche parte sono usciti più tardi nel mio percorso perché ho un destino ho una missione e se questa missione continua per il beneficio della vita e dell'umanità sono sicuro che tireranno fuori questa carta e se non tengo conto del mio passato oscuro giocheranno questa carta così la fiducia sparirà cronald hai mai studiato qualcosa sulla simbologia occulta e adesso sto parlando dei numeri i famosi 666 777 776 1776 911 tutti questi numeri hanno dei significati tremendi giusto? sì abbiamo fatto conferenze su simboli e numeri ma la più grande conoscenza che ho fatto è arrivata più tardi nella mia nuova vita nella mia seconda vita le tue ricerche non sono arrivate nel comprendere la simbologia sono stati gli studi sulla teologia sul mondo teologico come studiare il corano la bibbia la torà e tutti questi tipi di cose e ho iniziato a scoprire che l'intera creazione nella quarta dimensione la quarta dimensione che abbiamo la terra questa vita si basano su numeri così ho iniziato a scoprire il vero culto dietro la creazione dove tutto quanto si può tracciare tutto attraverso i numeri e ho iniziato a scoprire che anche la parte oscura nella quale lavoravo anche quella lavora con tutti questi numeri questi numeri sacri questi numeri doppi ma non non era la conoscenza che avevo quando stavo in cima lavorando con la finanza avevamo avevamo differenti modalità differenti codici però non i codici di cui stavamo parlando perché tu parlavi di una sorte di numeri sacri numeri sacri con potere giusto buoni e coattivi ma avevano questo potere sì giusto così sapevo ovviamente del famoso numero 666 ed è 332 sì per esempio si usa per Skull and Bones ma il 666 è anche un numero ingannevole assolutamente ma parliamo della banca nell'ombra sì perché c'è ci rendiamo conto che c'è una elite masonica che si trova all'interno del suo dipartimento compartimentale dentro all'attività bancaria col vale e questa elite ha la sua serie di regole assolute ed è in grado di condurre transizioni imponenti completamente al di fuori dallo schermo radar dove usano la tecnologia di schermo flash una tecnologia avanzata di cui non sappiamo nulla sì questa questa grande cosa di cui stai parlando adesso si riferisce ai tempi moderni a quel tempo continuavamo a lavorare con molti contanti e libri contabili sì col telex del telex e a quel tempo il fax il telefax era appena apparso e il primo telefono portatile era enorme con enormi batterie non era dei tempi moderni come quello che abbiamo adesso in realtà eravamo dei cowboys quello che voglio dire è che in una delle mie interviste spiegavo durante una visita in Germania di camion carichi di denaro dollari iracchiani dollari americani ma erano trasportati illegalmente a causa dell'embargo a quel tempo erano gli inizi degli anni 90 e l'embargo era illegale comprare e vendere petrolio in dollari nel sistema bancario a quel tempo bisognava commerciare con un sacco di contanti più tardi venivano trasportati in bancali ufficialmente nella corrente principale si può parlare di 30 miliardi un importo veramente enorme con aerei per finanziare la seconda guerra con l'Iraq è stato nel 2003 questo è stato per finanziare l'insurrezione per finanziare i sabotatori i provocatori stiamo parlando del finanziamento reale del mondo voglio dire lo chiamo il vero finanziamento del mondo che ti permette di fare qualsiasi cosa tu voglia in questo mondo perché molte delle persone sulla terra puoi comprarle puoi ricattarle o comprarle una delle due sono veramente pochi che sanno resistere perché viviamo tutti in un sistema di schiavitù e per loro non è nulla un milione non è abbastanza 10 milioni questo è solo un gioco nel mondo reale molto bene quindi hai parlato di un gruppo i massoni è un'organizzazione a livello mondiale ma ancora non sono alla cima portano avanti un programma e loro sono come l'ABS come gli altri loro ascoltano il padrone questi 8000 8500 il vero potere e quando si parla del vero potere non è solo terreno bene fermati quindi la potenza reale sono dietro gli 8500 stiamo iniziando a parlare di metafisica qui intelligenze interdimensionali intelligenze astrali inferiori intelligenze extraterrestri ho scoperto una cosa riguardo a noi stessi siamo interdimensionali noi stessi noi siamo multidimensionali e siamo anche capaci di percepire parecchie frequenze tutte le frequenze e quello che si può leggere in molti libri vecchi diciamo i libri sacri e storici riguardo le tribunative ed altro tutti parlano di questo sistema dualistico tutti parlano di manifestazioni di luce e di manifestazioni oscure e il sistema finanziario su questo pianeta per il quale ho lavorato è la chiave principale lo strumento principale per fare tutti i programmi che vogliono perché hanno un programma e i massoni hanno una missione spirituale e l'obiettivo finale di tutta questa cosa è che devono seguire forse uno dei pochi gruppi su questa terra letteralmente la Bibbia in special modo anche la rivelazione riguardo a quello che seguirà e puoi vedere questo nella storia recente come la rinascita di Israele era palestinese la Palestina nel 1948 la nascita la rinascita dello stato di Israele lo stato di Israele è stato tutto scritto nelle profezie e loro portano avanti lo spettacolo loro quando studiavo teologia e studiavo la Bibbia sono stato totalmente devastato come wow i miracoli di Dio stanno succedendo qui il nostro creatore onnipotente nel cielo e nella terra wow sta facendo tutto questo no non è così quindi il mio vecchio lavoro quello dei vecchi giorni collegato con la nuova consapevolezza della mia nuova vita combacia perfettamente in ogni luogo con quello che sta succedendo e più tardi le persone che rompono il giuramento i vassoni mi hanno reso ancora più consapevole riguardo a questa agenda e l'obiettivo finale sul quale stanno lavorando è di creare il terzo tempio a Gerusalemme ricostruire il tempio di Salomone esatto la terra santa è praticamente ritornare al culto sabbatico sì e i massoni i quali anche lavorano attraverso i movimenti politici come i nazisti hanno dato vita alla Kristallnacht nel 1933 o 34 il programma che stava dietro ha scacciato gli ebrei fuori dall'Europa dalla Germania specialmente quelli ricchi i benestanti nel programma per la Palestina ma nessuno voleva spostarsi nessuno voleva muoversi nel deserto e questo è il motivo di tutto questo terrore durante la seconda guerra mondiale ed è uscita questa cifra di 6 milioni da chissà dove sì perché non si può dimostrare se i documenti della Croce Rossa sono reali abbiamo investigato anche su questo se sono veri 250 mila si parla anche di qualche centinaia di migliaia e questo è ancora troppo perché sono morti per schiavitù e malattie ma l'intero programma è stato i nazisti hanno lavorato ufficialmente fino al 1942 con gli zionisti politici se gli zionisti politici erano ebrei al 100% i puri ebrei delle 12 tribù quelle originali ecco che allora non riesco a capire più niente sul fatto di distruggere la tua stessa gente non ha alcun senso no è massoneria è massoneria nero bianco nero bianco è una cosa massonica ed ancora ancora questa BIS è stata la chiave principale nel finanziare qualsiasi cosa sulla terra nel 1930-31 i primi degli anni 30 giusto quello è stato l'inizio quello è stato l'inizio ma prima della guerra e durante la guerra l'industria americana si è seduta sullo stesso tavolo come stiamo facendo adesso facendo affari con i nazisti West Standard Oil e l'IBM erano coinvolte tutte queste compagnie e sui campi di battaglia è là dove c'era l'energia dove è avvenuta l'ispirazione il sacrificio hanno sacrificato bambini un sacco un sacco parliamo di questo perché essenzialmente il sistema bancario è il meccanismo di controllo dell'umanità è il principale è veramente il principale ma l'obiettivo del sistema bancario è controllare e creare gli scenari dove avvengono i sacrifici di sangue è sulla cima perché guerra malattia e povertà eguagliano il sacrificio di sangue a livello collettivo sì e questo è a causa dei bastardi che vivono fuori da questa quarta dimensione si tratta di quelli che chiamo luciferini si chiamano anche geni angeli caduti hanno un sacco di nomi ma loro nel momento in cui abbiamo una rissa un argomento che va fuori controllo creiamo una emozione negativa e loro vivono con questo assorbono questo ogni momento perché adesso sono anche attorno a noi sono ovunque e in special modo nella finanza perché ho fatto molto sottotitamente ho fatto molto li ho serviti tantissimo perché mi sono trovato nel mezzo dei finanziamenti voglio dire non era denaro mio ma ho organizzato tutto per loro per creare guerre per creare effettivamente tutti i sacrifici sei andato oltre hai trasmutato questa esperienza Ronald sei stato precisamente un pioniere perché hai trasmutato questa esperienza in qualche chimica meravigliosa il problema è che ancora là è quotidiano è là tutti i giorni e le persone non lo so non sono consapevoli le persone devono svegliarsi parliamo del contratto dell'anima parliamo del contratto dell'anima e dell'accordo che abbiamo preso sai con questo terzo tempio cercalo tutti i potenti del mondo lo stanno già richiedendo da molti anni il nuovo ordine mondiale il loro nuovo ordine mondiale questo è il programma si combina con il sistema finanziario per averci completamente schiavi senza contanti tutto digitale per metterci dentro una gabbia digitale completamente decidendo se tu gli piaci o meno ah ma non hanno mai pensato alla criptovaluta e al blockchain vero? lo hanno fatto credi che hanno sviluppato tutto questo? non pensi che è una risposta naturale umana ed organica al sistema bancario centrale e al denaro fiduciario sono la criptografia i contratti intelligenti il nostro modo puoi trovare per liberarci a questo male anche su internet puoi trovare il libro bianco della NSA del 1995 loro stavano già descrivendo tutto quello che abbiamo adesso nel presente come la criptomoneta è la prima e la seconda generazione della criptovaluta che ha una miriade di possibilità disoneste non sono libere sono molto contento e consapevole che passo dopo passo le persone iniziano a scegliere in modo diverso giusto ma riguardo alla criptomoneta è stato tutto creato dai servizi segreti ora nella terza e quarta generazione le persone usano gli strumenti per adoperarli in modo veramente positivo molto bene ci sono cose positive che stanno procedendo ma sono le mie reazioni sono state più verso la direzione in generale della massa dei miliardi di persone ancora non hanno indizi semplicemente seguono qualsiasi cosa sì non hanno alcun indizio su qualsiasi cosa perché sono bambini hanno il bambino interiore e sono bambini da soli e dobbiamo prenderci cura di questo con tutte le persone che sono in grado di fare questo però non vorrei parlare ancora del contratto dell'anima perché a livello dei cosiddetti illuminati e di questi agenti babilonesi stanno impegnando questi contratti con l'anima in un modo o un altro con questa intelligenza elevata vogliono averci come schiavi permanenti abbiamo capito questo come possono questi diavoli revocare questo contratto se volessero come possono uscire da questo contratto nuovamente è possibile che si ritirino perché i tempi stanno cambiando il mondo cambia molte di queste personalità in questo scaglione stanno per vedere che sono dalla parte sbagliata della storia e vogliono trovare una transizione c'è qualche possibilità per loro di fare questo sì come con libero arbitrio con libero arbitrio e mettendosi in contatto con le persone che sono già nella manifestazione della luce ok perché il gruppo cresce tu sei uno di loro sei in contatto con molte altre persone io sono collegato con molte altre persone ma gioco è fatto hai menzionato che quando sei coinvolto con questo gruppo di illuminati hai detto che non avevi empatia che calcolavi con freddezza e che avevi la capacità di fare decisioni e boom nessuna connessione col cuore giusto? sì addirittura ridevo di questa cosa terribile che cosa era giusto? qual è stata la transizione che ti è successa? quando? in che giorno? che cosa si è verificato per tirarti fuori da questo? è stato il giorno che sono morto hai visto qualcosa? ho visto me stesso e non credevo questo è stato il giorno in cui ho cominciato a rendermi conto che sono molto di più che semplicemente uno schiavo al servizio di un sistema malvagio bravo devi aver avuto un evento Robert che è successo che cosa accadde quel giorno? che cosa ha innescato questo? quando ti trovi fuori dal tuo corpo non puoi più tornare indietro in realtà perché inizia un'esperienza e l'esperienza è una vita completamente differente è un mondo differente sembra come avevo visto parte del nuovo mondo del mondo di cui stiamo parlando di altre dimensioni e può essere così però il verde dell'erba è differente se osservi l'erba è solo un esempio puoi vedere attraverso l'erba ed è ancora reale una vera erba un'erba verde ma puoi guardare attraverso di esso cerco di descriverla ma è così brillante i colori sono così brillanti e riesci persino a percepire i colori è tutto così intenso è un mondo completamente differente che cosa ti ha portato in questa esperienza metafisica e spirituale in questa morte di transizione che cosa ha provocato questo? il mio cuore ha smesso di battere letteralmente sì si era andato completamente eri a casa? dove è successo? no mi trovavo al lavoro hanno chiamato il servizio di emergenza sì l'emergenza l'ambulanza l'ambulanza e ti hanno risuscitato il solo momento che riesco a ricordare a parte vedere tutto quello che stavano facendo sul mio corpo il vero risveglio è ritornato la consapevolezza è stata una mamma che piangeva è stata la prima cosa che ho visto è stata questa quindi in un certo senso hai viaggiato all'indietro nel regno degli archetipi hai visto molte cose ma questa è stata quella che ha lasciato delle impressioni in te la mamma che piangeva ed è stata una connessione diretta del sacrificio degli innocenti esattamente bene questo è bellissimo sì ma più tardi visto che avevo bisogno di ristabilire il mio corpo in special modo il mio corpo addirittura le ossa della mia schiena dovevano essere riparate insieme ad altre cose ma durante questo tempo di recupero mi trovavo in una clinica privata a Lussemburgo e la mia compagna un'amica particolare che era con me in quel momento per supportarmi abbiamo stato in una foresta al buio quando ero in grado di camminare un pochino fur village le luciole le luciole le luciole sono insetti sì e non sapevo nulla sulla natura così per me è stato un miracolo è stato veramente un miracolo il mio primo contatto con la natura perché prima di allora semplicemente distruggevo la natura così il mio primo contatto l'avevo già provato ma subito dopo molti altri miracoli sono successi nella mia vita anche con altri esseri umani perché l'uomo in questa sezione clinica l'immagine di me stesso ero così in marcio avevo questa immagine negativa di me stesso in clinica ho cercato di distruggere me stesso anche non è successo ho ingoiato un sacco di pillole per dormire ed andarmene ma mi hanno preso e hanno tirato fuori tutte le pillole dal mio corpo e poi là c'era un giovane ragazzo che era lesionato in questa clinica mi si è avvicinato con una piccola Bibbia per bambini non ricordo le parole che ha detto ma ha toccato il mio cuore completamente le parole che ha detto attraverso questa Bibbia per bambini e anche questo mi ha toccato profondamente dentro me e dopo questo in realtà la mia intera vita ha iniziato ad essere con la presenza quindi hai capito la forza dell'oscurità e della falsa luce ed hai compreso la forza del perdono la forza della compassione gli ultimi 20 il potere della soluzione gli ultimi 22 anni ho iniziato a scoprire la vita positiva le manifestazioni di luce l'amore incondizionato e questo è cresciuto così tanto che ho un contatto diretto che mi sono costruito con la fonte della vita quello che chiamo il creatore del cielo e la terra non ho alcun monologo ma un dialogo capisco è geniale quello che ci unisce insieme in questo mondo è il desiderio un desiderio ardente di finire tutta questa ombra della nostra vita giusto è terminare questo sacrificio di sangue questa cultura di sangue terminare l'usura il controllo la manipolazione e prevenire che le anime rimangano dentro al ciclo sì e non possono essere catturate per sempre come alternativa perché sono indirizzate verso questo programma un programma massonico dove vogliono che siamo come batterie l'ultimo raccolto sì e basandoci sul libero arbitrio possiamo scegliere in modo completamente differente perché siamo liberi siamo liberi del 100% pertanto dobbiamo ristabilire la nostra posizione anche qui sulla terra su chi siamo come esseri umani perché siamo veramente molto ma molto potenti redenzione salvezza assoluzione queste sono le parole sì e questa è la scienza dell'amore che possiamo praticare con il nostro lavoro è l'unica via è la sola via Ronald Bernard grazie grazie anche a te grazie a te grazie a te